Ad oggi abbiamo messo dei campanellini d'allarme sugli evasori totali, cioè sono quei soggetti che risulta che hanno una residenza, quindi hanno una residenza di un delitato lago fisico, ma nella banca d'Ari non risulta. Ad Arezzo è caccia gli evasori fiscali, nelle casse del comune infatti mancherebbe circa un milione di euro di tari, ma è pagata da parte di evasori totali, ossia utenze mai censite. Sono questi i primi frutti del piano Sitta, progetto partito nel marzo 2018, finanziato dalla regione toscana per un importo di oltre 100.000 euro e messo in atto dal comune Aretino. Si tratta di un sistema evoluto, diciamo, che utilizza un particolare software che è in grado di associare a dei dati territoriali, cioè quindi cartografici sulla posizione nel nostro territorio, anche delle banca dati, in particolare banca dati di natura fiscale e tributaria. E noi l'abbiamo applicato alla problematica ovviamente della Tari, con l'obiettivo ovviamente di andare a individuare quelle sacche di evasione totale che purtroppo i primi risultati ci stanno evidenziando. Nella zona del comune di Arezzo, analizzata sino ad oggi, sono state conteggiate 6.557 unità immobiliari, il 13% del totale. Il 62% di queste risultano associate con utenze Tari. Da una prima analisi in via cautelativa, invece, si può stimare che circa il 15% delle unità immobiliari non risulta essere associata a utenze Tari. In pratica, 373 utenze residenziali non pagano la tassa, con un gettito messo pari a circa 98.000 euro. Se noi questa ovviamente la riverberiamo su tutto il nostro territorio comunale, possiamo ragionevolmente e prudenzialmente ipotizzare di recuperare circa 670.000 euro per le utenze non domestiche. Poi abbiamo le utenze non domestiche, ovviamente le utenze non domestiche sono quelle più numerose, però complessivamente le stime ci proiettano verso il recupero di evasione totale sull'Atari di un milione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non è che aumentiamo la pressione fiscale sui cittadini, questo ci tengo a ribadirlo, l'ha ribadito anche il Sindaco. Ma di fatto aumentiamo la platea di contribuenti e quindi, come abbiamo detto, il motto è pagare tutti per pagare tutti di meno. Cioè se noi riusciamo a individuare, ci saranno le procedure d'accertamento, ma questi evasori totali, di fatto la famiglia media dovrebbe comportare una riduzione della Tari di circa 5,5-6%. Cioè se noi riusciamo a individuare, ci saranno l'abbiamo, ci saranno l'abbiamo, ci saranno l'abbiamo, ci saranno l'abbiamo, ci saranno l'abbiamo.